Quali sarebbero le conseguenze soprattutto di attori in campo in caso di un allargamento del conflitto fra Hamas e Israele? Cercando di fare ordine partiamo dai paesi del Golfo, questo gruppo di paesi è capitanato dall'Arabia Saudita e in realtà non si è mai impegnato più di tanto sotto il punto di vista militare, preferendo staccare degli assegni anche cospicui. Altri paesi del Golfo, come invece gli Emirati Arabi, si sono permessi di mandare delle ammunizioni alla Siria di Bashar al-Assad appena rientrato all'interno della Lega Araba, intimandogli di non partecipare a nessuna azione contro Israele. Vi sono poi quei paesi che riconoscono Israele, come per esempio la Giordania e l'Egitto, due paesi chiamati Al-Jihad, la Meshal e che in realtà potranno fare ben poco. Questo perché innanzitutto l'Egitto è stato l'apripista degli accordi di pace con Israele, firmando nel 77 un accordo di pace separato che costò la vita addirittura a Sadat. Anche la Giordania seguì lo stesso esempio nel 1994 e quindi è evidente che la questione dei palestinesi viene vista più come destabilizzatrice e che come risolutrice all'interno della politica di questi due singoli stati arabi. Abbiamo parlato di Sadat e non possiamo non citare il fronte della fermezza e del rifiuto, quella coalizione di cinque paesi che raccoglieva chi categoricamente escludeva con fermezza qualsiasi genere di rapporto con Israele. Stiamo parlando di Algeria, Libia, Yemen del Sud, Siria e Iraq. Ora, di questi cinque paesi, la Libia e la Siria, come sappiamo, sono stati devastati dalla guerra civile. Mentre invece lo Yemen del Sud è stato integrato alla Repubblica Araba dello Yemen, l'Iraq è stato invece devastato prima dall'invasione americana, poi dall'ISIS e da una povertà galoppante che ha portato un'instabilità politica degna solo di quella libica. E quindi è evidente che nessuno, salvo forse l'Algeria, potrebbe o vorrebbe fare qualcosa. Il fronte della fermezza e del rifiuto è un fenomeno proprio del secolo scorso, intanto perché era ancora vivo Arafat e con Fatah monopolizzava la scena politica palestinese all'interno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e dell'autorità nazionale palestinese. Non è più così, non è servita soltanto la sua morte per superare tutto questo, perché Hamas in realtà è andato a erodere sempre più terreno e credibilità alla stessa Fatah. Questo ha comportato che Hamas sia diventato un elemento imprescindibile all'interno della retorica dell'asse della resistenza. Vale a dire tutti quei combattenti che si oppongono all'esistenza stessa di Israele e che fanno capo in qualche modo all'Iran della rivoluzione islamica. L'Iran ha infatti da sempre finanziato Hamas, nonostante le divergenze religiose. L'Iran è una teocrazia sciita, Hamas invece è una costola dei fratelli musulmani, un movimento sunnita. Ma questo ha permesso in qualche modo di trovare una linea di intesa, anche perché durante gli anni Hamas e Hezbollah, quindi i sciiti libanesi che sono direttamente formati in Iran, hanno avuto modo di scambiarsi informazioni e anche addestramenti militari. Quindi Israele in questo momento storico si trova, secondo la retorica musulmana, soprattutto propria del regime iraniano, a far fronte a questa rete di alleanze che fa capo all'Iran. Questa rischia di diventare quindi molto rapidamente una guerra per procura contro l'Iran e contro i suoi alleati regionali. Soltanto che non è detto che sia di facile risoluzione, visto il numero di forze che sono in campo. Non sapendo poi quelli che sono i progetti politici della Turchia, che è tornata a tutti gli effetti un protagonista della scena del vicino e del Medio Oriente, non possiamo fare analisi a lungo termine. Quello che è chiaro, di questo ce ne siamo accorti tutti, è che in questo momento storico il risico si sta spostando dall'est Europa, e quindi dal fronte ucraino, al vicino e al Medio Oriente. E basta veramente poco per fare deflagrare una guerra senza precedenti.